ciao ragazzi è arrivato il dispositivo il termometro definitivo allora innanzitutto eccolo qua è un termometro istantaneo è un termometro istantaneo wifi per cui dalla app noi possiamo andare anche a monitorare tutte le varie rilevazioni che abbiamo fatto nel corso del tempo come vedete ci sono gli orari nel momento in cui vado a fare un'altra rilevazione lui la salva e me la comunica direttamente al telefono adesso ne ho salvato una eccola qua vedi sto è comparsa la calibratura può essere fatta quando vogliamo c'è una pagina con tutti i setting possiamo ovviamente convertire da fare net a gradi centigradi scegliere l'intervallo col quale va a rilevare prende temperature diciamo fino a 300 gradi non non andiamo oltre la cosa figa le sonde che vengono la parte che viene infilata è molto sottile sia della parte termometro istantaneo che anche la sonda esterna come vedete non andiamo a mettere quegli antiestetici a fare quegli antiestetici fuori grossi che ci sono nella carne ogni termometro viene testato a mano viene consegnato all'interno della scatola un foglietto firmato e scritto in mano con il nome della persona che ha fatto la calibratura della macchina che poi tra l'altro potete fare anche voi in acqua e ghiaccio o accoppiato con macchine di rilevazione molto professionali il libretto è in italiano dove viene spiegato bene sia come impostarlo sia come lavorarci la macchina sempre termometro è certificato il p66 per cui può essere lavato sotto acqua corrente con del sapone è totalmente impermeabile ovviamente non buttate l'ammollo nella bacinella e lasciarlo lì per mezz'ora però se prende dell'acqua corrente sotto al lavandino non subisce niente quindi questa è la macchina definitiva termometro istantaneo sonda wifi abbiamo la app per poter vedere tutti quanti grafici possiamo salvare anche sullo schermo qua se non vogliamo avere la app possiamo salvare tutte le varie rilevazioni che andiamo a fare no semplicemente premendo un tasto vedete 18 18 17 e man mano che andiamo a rilevare le temperature del cibo possiamo andare a salvarle quindi ragazzi sono 150 grammi quindi è pesante è fatto bene per tutte le cose che offre per la qualità che offre questa macchina qua non costa niente veramente io me ne sono già innamorato a presto novità